I bambini prematuri possono essere vaccinati anche loro al compimento del terzo mese come gli altri bambini. Non ci sono dei rischi maggiori. Il fatto che il bambino sia prematuro e sia più piccolo non indica che abbia un sistema immunitario prematuro o più debole. No, il sistema immunitario del bambino che nasce prima è potente come quello di un bambino che nasce alla fine perché la sua maturazione avviene molto presto nell'ambito dello sviluppo e l'effetto. Per cui tutte le linee nazionali e internazionali raccomandano che al compimento del terzo mese vengano fatte le vaccinazioni prascate. I bambini che nascono molto presto e grandi prematuri hanno il vantaggio che stanno in ospedale nel centro di neonatologia per un periodo sufficientemente lungo per cui molto spesso possono fare i vaccini direttamente in ospedale. Ma in ogni caso, anche dove i bambini fortunatamente non sono così piccoli o non hanno problemi e possono andare a casa presto, al complimento del terzo mese i genitori li devono portare al centro vaccinale per farli vaccinare, senza avere paura che questo bambino piccolo possa avere dei svantaggi, delle reazioni, anzi lo riescono a proteggere, che è una cosa molto importante per loro.